da orenzi buonasera e benvenuto buonasera che belva si sente mi sento un uomo non una belva agli scout sa che gli scout che per me sono un'esperienza educativa molto bella ma hanno dei tratti un po stravaganti ognuno di noi veniva chiamato con un animale si chiama nome di totem e lei era mi scappa da ridere perché a me chiamano grillo però so che lei avrebbe preferito chiamarsi giaguaro non è che preferivo giaguaro è che è una storia un po così che possono capire soltanto gli amici scout ti scrivono con un pennarello che poi dicevo altre giorni per pulire il nome quando misero la g allora quel punto c'hai giaguaro gorilla pensi a tutte le cose no no gattino insomma era magari no però quando viene grillo non benissimo io questo rapporto un po perverso con con grillo inteso come animale inteso come leader leader non so se ancora leader o no dei cinque stelle ho fatto bene a scegliere lei come belva della politica o c'è qualcuno che è più belva di lei è un complimento eh ce ne sono moltissimi più belva di lei secondo me un pari grado mi dica un pari grado lei ha fatto l'elenco gli hanno detto di no quasi tutti alla fine ha scelto me più o meno è andata così dopodiché il paragone che l'unico della del mondo della comunicazione sia stato marco travaglio mi fa un po sorridere perché ricompatta una coppia perché è una coppia ormai in tribunale a un abbiamo undici cause per diffamazione quindi c'è stato un momento in cui invece vi sentivate anche al telefono abbiamo rotto per una telefonata con una telefonata nel senso che io ero presidente del consiglio lui scrisse una cosa di me che mi fece molto arrabbiare loro misero in dubbio la mia moralità su una questione legata mi pare di rimborsi a degli scontrini tempi ero già a palazzo chigi ma si riferiva a una vicenda del comune scrivi se lo sai che non è così perché dovete scrivere perché dovete mettere in dubbio la mia onestà dite che sono un incapace dite che non vi piaccio ma a me possono dire tutto tranne che sono disonesto vi siete lasciati al telefono siamo lasciati così senza rancore senza rancore mi pare difficile ma insomma va bene senta io sono molto felice cioè io in questo periodo vivo però non ci crede nessuno quindi non pretendo che lei ci creda e non so nemmeno che ci crederanno a casa io sono in una fase meravigliosa della mia vita 46 anni sto godendo di una stagione della della mia vita che ancora è molto affascinante piena di 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 entusiasmo e quindi non ho rancore neanche verso marco travaglio comunque lei è il politico con più soprannomi dal bomba all'innominabile demolisce omel rottamatore e tanti altri ce n'è uno che la diverte è un altro che invece non le piace quello che più mi diverte è il bomba perché tutti dicono che da piccolo mi chiamavano il bomba mai successo perché era un altro amico che veniva chiamato il bomba e quindi mi hanno attribuito un soprannome che non è il suo quale le piace quale non le piace hanno bene tutti non è che vanno bene tutti ecco io su questo sono un po arrogante ho la convinzione diciamo la consapevolezza che qualsiasi cosa venga detta su di me che non è vera non mi tange per cui se dicono che sono il bomba e non è vero io ci sorrido questo è un atteggiamento che da un lato funziona perché ti fa scivolare addosso tanto fango dall'altro mi faccio un'autocritica è un po arrogante perché se tu sei convinto che alla fine tanto tutto quello che ti dicono te ne fai a niente e alla fine vai diritto come un fuso per la tua strada che non sempre una buona idea quindi mi può chiamare come vuole anche cos'era demolition man demolition man poi c'è bullo mi hanno chiamato pure bugia no bugia no quello è per te fioroni bugia però questa è tanta storia senta lei da ragazzo ha fatto l'arbitro ma questo per abituarsi a non essere considerato proprio più simpatico in campo in realtà è un'esperienza bellissima essere arbitro tu devi decidere in quell'istante il tuo fischio deve essere bello tosto forte devi prendere una decisione sapendo che ti assumi da responsabilità sei solo sono tutti contro ti insultano in tutte le lingue del mondo perché poi in certi e poi gli insulti sempre quelli no beh sì però c'era anche una certa fantasia nell'insulto toscano cioè non c'era solo l'insulto sulla mamma sulla sorella fidanzata tipo a lei che le dicevano capisco che è tardi ma preferirei non dirlo io non avendo fatto carriera come arbitro mi sono buttato in politica ma lei in percentuale è più simpatico più antipatico alle persone in questo momento a livello come personaggio pubblico assolutamente più antipatico ma tipo 80 20 90 10 e che spiegazione si dà ma penso che non so valutare bene da un lato c'è sicuramente una componente di mia responsabilità se alla fine hai avuto grandi incarichi grandi luoghi di responsabilità e adesso dopo tanti anni non sei più amato come prima una parte di colpa è anche tua dall'altro sono stato oggetto di una campagna di diffamazione quella di cui parlavamo prima senza precedenti nel senso che io ho scritto un libro che uscirà nei prossimi giorni ho fatto un elenco di questioni di cose che mi hanno detto false e imbarazzate dopo le sue dimissioni da premier lei riflettendo sul sentimento diciamo che i suoi avversari interni e esterni hanno espresso in tutti i modi possibili ha detto non pensavo mi odiassero così tanto un odio distillato purissimo C'è messo del suo oppure quello che diceva prima in parte sì perché potevi stare più a te ma sempre così c'è sempre una quota a parte di responsabilità e in parte Jessica Rabbit non sono cattive che mi dipingono così una delle cose divertenti di quando incontro persone Arrivai qualche giorno in vacanza o incontri un amico di amici che non ti conosceva personalmente anche se un po' tutti si sono fatti un'idea su su di un personaggio pubblico Ti dicono due cose uno dice o sei più alto di quello che pensassi Nessuno che mi dica sono più magro e questo è tutti più alto ma nessuno più magro e invece è l'altra cosa che dicono è sai che non sei così Antipatico alla fine di una cena questo evidentemente è un aspetto personale mi dice un suo pregio Ma io dico le stesse cose che dico in faccia le dico in pubblico Che anche un difetto naturalmente mi dica un suo difetto che non sia questo diverso da questo è facile per il mio difetto Arroganza come di marchio di fabbrica quasi banale come risposta l'arroganza che vuol dire Che da un lato ti dà la scorza dura per sopportare tutto Dall'altro però ti frega Lei ha scalato un partito l'ha portato quasi al 41 per cento è stato il più giovane premier italiano Qual è la sua marcia in più cosa a lei in più degli altri che una volta lei ha detto non ho vinto perché sono più ganso E che gli altri sono fave Questa magari l'ho detta credo ai tempi delle primarie Ora sono cercando di utilizzare una parola un linguaggio un vocabolario un po' più fine Devo dire anche che sono stato un uomo molto fortunato nelle tutte le varie in tutti i vari passaggi della mia vita se io mi guardo indietro Io trovo un una fortuna pazzesca e a quelli che mi dicono ah ma tu hai sbagliato ed è evidente che se perdi poi a un certo punto sbagli Se tu avessi avuto un altro carattere oggi saresti ancora a palazzo chigi Questo è un'idiozia se io avessi avuto un altro carattere a palazzo chigi non ci sarei entrato nemmeno in gita scolastica Perché il punto è che se guardo indietro vedo sicuramente una capacità di rischiare forse questa è la cosa che mi ha caratterizzato Ma anche avuto poi si dice un buon colpo di fortuna fattore c lo chiamava Romano Prodi Ferruccio De Bortoli scrisse di lei Del giovane Caudiglio Renzi che dire un maleducato di talento disprezza le istituzioni e mal sopporta le critiche Cosa le ha dato più fastidio di queste accuse? Maleducato Non sopporta le critiche è un po' vero per esempio Ma no ma le critiche io veramente come dire mi pare che le stia dimostrando che me le prendo tutte Però maleducato è un'espressione brutta che non mi piace che non sopporto e quindi detto questo De Bortoli fu di quello che gli pare ma ha detto anche che ero intorno a me disse una cosa un po' diversa Un odore stantio di massoneria Le sa a memoria le sa tutte lei Mi ha detto tante cose Forse De Bortoli è il classico direttore di giornale che con i presidenti di prima si sentiva non so con Monti che era stato un suo editorialista con Enrico Letta Magari con Prodi gli faceva la telefonata Cosa ne pensa direttore? Io questo ho molto saltato a più e pari Se dovevo mettere le scalzi a Leni o staraci a Leni non è che chiedevo a 20 persone Mi facevo un'idea valutavo e poi prendevo le mie responsabilità da premier Un pezzo della mia difficoltà con i giornali è nato anche dal fatto che non li chiamavo tutte le sede per sapere il titolo del giorno dopo Facevo il mio E anche questo che cos'è? Tendenzialmente arroganza Quando lei è stato davvero potente? Quando era il governo L'ultima volta che si è sentito potente? Quando abbiamo cambiato la flessibilità in Europa 2015 2015 Lì io ho capito che stavamo facendo un grande lavoro Senta e quando invece ha cominciato diciamo a sentire che suo potere un po' scemava quando ha perso ruolo Diciamo il contraccolpo personale è arrivato? No Questa è la cosa più bella e più strana Nel senso che c'è stato un contraccolpo enorme dal punto di vista logistico Io sono arrivato a casa dopo il referendum e non avevo un posto dove stare Perché la scrivania della taverna stavamo allora a Pontassiave l'avevano presa ai figlioli Giustamente E lì c'è Non sapeva dove mettersi Usu capione chi si è visto si è visto Quindi e naturalmente fa effetto vedere le stesse persone che ti Losingavano per non dire altre parole che il giorno dopo ti ignorano Ma ecco mi fa dei nomi? No Anche perché fare un elenco parte della finisce Ecco però ci sono delle delusioni che insomma uno vive sulla propria pelle No Chi l'ha delusa in quel momento? Ma guardi tanti Ma anche adesso anche nella crisi di adesso Me ne dica uno Due Che è più facile Non ha problemi a fare i nomi Le dico un nome che mi costa fatica perché e mi dispiace molto Ma non legato al momento della fine del potere a Palazzo Chigi In questa ultima vicenda quella in cui Contro tutti abbiamo messo Draghi al posto di Conti E lì eravamo soli isolati C'era un odio notevole C'era soltanto qualche amico che mi dava suggerimenti da fuori Che mi dava consigli da fuori Che mi dava forza da fuori Ma dentro il mondo della politica tutti pensavano Che noi saremmo andati a sbattere contro il muro Quando abbiamo fatto le dimissioni mi ha molto colpito come Graziano Del Rio Ha fatto un appello ai nostri, agli ex Dicendo lasciate Matteo venite con noi Quella è stata una cosa che da Graziano non mi aspettavo L'ho detto un nome perché a lui l'ho detto in faccia Quindi non è che sto dando una rivelazione Magari la sto dando a lei ma non a lui L'ho detto che umanamente la ferita che aveva posto era una cicatrice grande Perché me l'aspettavo da tanti Non che Graziano diventasse un membro del politbureau in quel modo Quando le dicono che lei è un traditore Le dispiace È una cosa che mi fa male perché Tutta la vicenda nasce su Letta Non giriamoci intorno a... C'è una lista, c'è Letta, D'Alema, Berlusconi, Zingaretti, Conte Scusi, 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 facciamo scherzi Conte, io gli ho detto in faccia Che per me o cambiava sui vaccini Ho sempre detto in faccia le cose Quindi perché non si può dire Ah ma Renzi fa casino per fare la crisi Allora andiamo su Letta La cosa principale è Letta Perché c'è stato un racconto Il famoso stai sereno Io a Letta avevo detto chiaramente Vai avanti te fino al 2018 Non era nelle condizioni di andare avanti Perché il governo non funzionava Detto questo si torna alla discussione di prima Posso dire quello che voglio Per alleggerire Quando c'è stato il famoso passaggio della campanella Che Letta si è girato dall'altra parte Proprio per non guardarla in faccia Lei invece tutto trunfio Si è preso la campanella In quel momento che ha pensato Tiè No, anche perché proprio Non avevo nessun tipo di ribalse Ho pensato che stesse facendo una figuraccia Ho pensato che di fronte alle istituzioni Non si scherza Cioè lì in quel momento Enrico Sta facendo una cosa che non si fa Sta puntando a dire Guardate sono la vittima Anziché rispettare le istituzioni Credo che abbia fatto un errore lui Di Enrico Letta le disse Non è cattivo Non è proprio capace Mi riferivo all'esperienza di governo E oggi che pensa? Ah non lo so È capace? Lo vedremo Mi auguro per lui e per il PD Ma ha fatto meglio il Zingaretti o un Letta secondo lei? Letta è appena arrivato E lasciategli lavorare i poveri ragazzi Quando si presentò da Maria De Filippi Con il giubbotto di pelle Chi glielo consigliò? Da solo Una bella idea sua? Sì, non benissimo Però adesso alla fine va bene Anche oggi mi sono messo la maglietta bianca Per la prima volta Non ho uno che mi segua l'abito Mi segua i vestiti Però quello era un giubbottino di Versace Molto bellino E l'ha fregato mia figlia credo Quindi adesso lo uso mia figlia Lei ha scalato il PD È stato premier giovanissimo Insomma Poi con il referendum È iniziata possiamo dire lì La sua discesa Se dovesse riconoscere un errore suo Vero Qual è stato? Sul referendum L'errore più grande Non è stato quello che tutti mi attribuiscono Della personalizzazione Ma uno ancora più grave Abbiamo Fatto di tutto per aumentare l'affluenza Cioè noi avevamo i sondaggi In cui stavamo 70-30 per il sì Con il 30% di gente che andava a votare Ok? Io nella mia hubris Dico Eh non vorrete mica che vada a votare poca gente Per la validità del referendum costituzionale Non serviva il quorum Ma io faccio di tutto per allargare l'affluenza E va a votare anche gente Che del referendum non era minimamente informata O che votava su di me O che votava per rabbia O che votava per altri motivi Questo è l'errore politico più grande che ho fatto Senta Sia lei che Maria Elena Boschi Avevate detto che Se aveste perso il referendum Avreste lasciato la politica Avete fatto male a dirlo O a non farlo? Su Maria Elena lo deve chiedere a lei Anche perché A lei Lei lo disse Mi pare di ricordare una volta Quasi Quasi scappata Quasi Ma sai che cosa Che vita meravigliosa Avrei fatto andando Sicuramente Dei risultati Nel restare in campo Li abbiamo prodotti Però Se lei mi domanda Ho fatto bene o ho fatto male Ho fatto malissimo Dal punto di vista personale Ero già pronto La valigia Quando lei si è dimesso da premier Nel discorso finale Anche visibilmente commosso Lei ha ringraziato Agnese Per tutto quello che ha supportato In quei mille giorni Cosa ha supportato? La fatica che ha subito La mia famiglia è enorme Anche perché Da un lato ci sono tutte le vicende giudiziarie A me hanno indagato mezza famiglia E quando tu sei dentro Questo turbillone Quando i figli vanno a scuola E c'ha il nonno in una situazione Babbo in tensione Ha sopportato una fatica psicologica E poi in più consideri Che Agnese faceva l'insegnante Aveva fatto la riforma La buona scuola Mettiamola così Non graditissima Come riforma Cioè credo che sia Nel 2% che non ha fatto sciopero C'era mia moglie Quindi si è beccata quello E poi faceva poi la first lady Per cui Quando c'era da incontrare Michelle Obama O le altre Toccava a lei O il marito di Angela Merkel Che aveva fatto una bellissima scena a 4 All'Expo Tra l'altro anche molto interessante Parlava inglese lei in quel caso Ma io inglese lo parlo Benissimo No benissimo Diciamo Su una roba già Potrei querelarla Io non parlo bene inglese Ma anche su questo Molti di quelli che mi prendono in giro Se fanno un dialogo con me in inglese Non reggono Fermo restando Che con qualcuno Di quelli che mi prendono in giro Farei un dibattito anche in italiano Dandogli tre congiuntivi di vantaggio Vediamo come va a finire Perché se no Con chi c'è là? Non faccia l'allusivo No ma insomma questa Questa campagna sull'inglese Ma con chi c'è là? Adesso Sui congiuntivi Sono in pace Ora vado Vabbè senta L'ultima No 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 C'è qualcosa Vado è l'ultima Decidi qual è perché è l'ultima Non posso fare un due O mi fai lo speciale A postare L'ultima domanda Decidi quale è l'ultima Me ne vado Facci Me ne vado Vogliamo andare in onda Una cosa così brutta C'è qualcosa per cui si sente di dover chiedere scusa ad Agnese? Assolutamente tante cose perché come in tutti i rapporti di tanti anni Quando tu c'hai una consuetudine di rapporto è evidente che una qualsiasi coppia vive di difficoltà reciproche Ma c'è qualcosa ecco a parte Però c'è una cosa sicuramente il fatto di averla costretta a vivere per tre anni Però c'è una cosa che mi fa piacere Con te tre anni di Palazzo Chigi dove ha vissuto da sola con i figli portando avanti la famiglia Però c'è anche una cosa da dire che abbiamo scelto insieme E se c'è una cosa bellissima è che ci riprenderemo il tempo con gli interessi Si piace? Io? Eh, che voto si dà fisicamente? Da che punto di vista? Fisicamente Chiesta a tutti, anche lei deve rispondere Sono consapevole di non essere bello Sono consapevole di essere grasso Ma sono talmente in pace con me stesso Lo metta sotto il capitolo l'arroganza Piace alle donne lei? Ma l'ha visto? È un seduttore? Però l'ha visto No, queste domande le faccia fare alla Gruber con Conte Ha visto che a un certo punto la Gruber ha detto persino Ma Conte secondo voi è sexy? Io penso che questa discussione non abbia senso Io sono sposato con mia moglie, sto bene, c'è i miei figli No, più c'entra, uno può piacere alle donne pure di essere sposato Non è che... Sono valutazioni che lascio a lei Comunque se vuoi la risposta è no Ultima domanda Veniamo al suo capolavoro di macchiavellismo Lei si è sentito più ganso a far nascere il Conte 2 o a farlo cadere? Nell'uno o nell'altro Io mi sono sentito in pace con me stesso quando abbiamo mandato a casa Salvini Perché in quel momento Salvini costituiva un problema Ma delle due operazioni però... Mi sono sentito molto fiero quando i soldi dei miei figli I soldi dei miei figli sono in mano a Mario Draghi e non a Giuseppe Conte Mi sento più tranquillo, più rilassato Ma quando la paragonano al protagonista della grande bellezza Che dice non volevo solo partecipare alle feste, volevo il potere di farle fallire Lei un po' si diverte Quella immagine mi fa molto ridere, sì A me fa impazzire Sorrentino per cui non mi sento il personaggio Senta però c'è stato un momento in cui per lei vincere voleva dire asfaltare l'avversario Hai esagerato? L'idea che a distanza di anni la parola rottamazione Abbia significato una sorta di distruzione dell'altra persona un po' mi dispiace Dall'altro però non ci ricordiamo come stava la politica allora Dieci anni fa la politica italiana era il trionfo della gerontoprazia No però dico proprio una cosa di approccio suo La rottamazione è stata una parola dura che è servita a cambiare Ha sbagliato approccio o ha fatto bene, sì o no? Allora ha fatto molto bene Quel 2% dei sondaggi, quantomeno di Italia Viva È una questione più politica o più personale? No, non so valutare nel senso che io penso che i sondaggi lasciano il tempo che trovano Una delle sue frasi preferite? Certo non sono la persona più amata d'Italia Questo lo avevamo in tweet Ah occhio è cruce Senta una delle sue frasi preferite è Mi gioco l'osso del collo, se l'hai giocato un po' se l'hai giocato 3 o 4 volte Quasi sempre è andata bene Quando è andata male però è difficile rimetterla a posto Lei prima di Natale ha incontrato in un autogrill lo 007 Marco Mancini che poi non ha relazionato E' scoppiato un putiferio, lei se l'aspettava che scoppiasse questo putiferio? Assolutamente no Perché comunque è saltato Vecchioni Mancini è andato in prepensionamento Insomma diciamo Mancini è un agente dei servizi italiani, dell'intelligence Incontra regolarmente tanti politici Io non ho niente da nascondere Per cui essendo di corsa gli dico ci vediamo all'autogrill Non è che ho bisogno di fare un incontro di nascosto Se devo fare un incontro di nascosto lo faccio in ufficio No perché questo spieghiamolo ai teorici del complotto Non ho nessun problema Ho detto a Mancini le stesse cose che potrei dire a lei o che posso dire uscendo di qui Io sono una persona da questo punto di vista trasparente Ne parlerà nelle sedi opportune Ma le posso chiedere se con Mancini ha parlato di questioni personali sue o di Mancini Oppure di interessi nazionali, questo ce lo può dire? Non ho parlato minimamente di questioni personali, né mie né sue Io non parlo di questioni personali con nessuno, e ne con lei Quindi ha parlato di questioni di interessi nazionali Allora lui non ha relazionato, quindi chiediamolo a lui Assolutamente Senta, non le chiedo l'opportunità di fare il conferenziere All'estero la legge glielo permette, eccetera Però lei non le ha creato un disagio morale la vicenda di Bin Salman Assolutamente no Perché? Nel senso che io ritengo che la mia attività di, chiamiamola conferenziere E poi è qualcosa di diverso E non soltanto assolutamente legittima e lecita Ma è un qualcosa che può essere Che è tipica di tanti ex presidenti del Consiglio Se vogliamo parlare della mia attività I miei soldi sono trasparenti Ma non parlo della sua attività, gli ho chiesto una cosa Il disagio morale di chi è stato riconosciuto come il mandante Dell'omicidio Cassorgi Anche su quello, tornando invece alla questione dell'Arabia Saudita E al Crown Prince Mohammed Bin Salman Io credo che chi conosce l'Arabia Saudita Sa che con questa leadership stanno cambiando moltissime cose Dopodiché che quella non sia una democrazia è evidente Poi arrivo alla vicenda di Cassorgi Perché lei sa che mi riferisco a quello Io voglio che sia chiaro questo Noi abbiamo l'estremismo islamico che sta tornando prepotentemente A cominciare dal Mozambico e da altri paesi africani Occhio, meno male che abbiamo l'alleanza con alcuni paesi dell'islam riformista Il più importante dei quali è l'Arabia Saudita Detto questo è riconosciuto come il mandante dal report della CIA e dell'ONU Fermi, su questo ci sono dei processi in corso Io il primo giorno ho condannato con forza quell'omicidio Ecco, diciamo che il report della CIA e dell'ONU Rispetto al fatto che il Prince Bin Salman possa essere il mandato di quell'omicidio esiste La posizione del Presidente Joe Biden È una posizione molto seria Ha detto che Ha fatto il caso G-Ban Ha detto che bisogna difendere la libertà di informazione Dopodiché, come lei sa Vabbè, comunque non legherei un disagio morale la risposta Le persone che sono state bannate dall'amministrazione americana Sono alcune persone Non è né il Crown Prince né il suo inner circle Trovo che sia leggermente strumentale il fatto che Durante la crisi di governo io dovesse rispondere sulle riforme di Riyadh E non quelle che volevo fare per Roma Detto questo, come vedi? Mi dice che secondo lei, per esempi inclusi, è il leader più carismatico della sinistra Adesso Sia sincero, eh Se io fossi l'uomo che può decidere Se fossi cioè colui il quale decide quale dovrebbe essere il leader della sinistra Le direi un nome che lei non si aspetta Mario Draghi C'è un gossip su di lei che le dispiace? No Riguardo a Maria Elena Boschi Lei ha detto Il basso gossip che abbiamo sempre dovuto subire E di cui le nostre famiglie portano per primi il peso È biega volgarità Non ci tocca Non vi ha toccato o un po' invece vi ha toccato? Vi ha fatto soffrire? Io penso che questa mia dichiarazione si riferisca al momento in cui è uscito un pizzino Di un'indagine giudiziaria molto volgare nei confronti di Maria Elena Per quello che mi riguarda, credo che sia abbastanza ingiusto Che siccome ci sono giovani donne che lavorano, e prima non era così, nella politica italiana Debano essere sempre circondate da un'attenzione morbosa Detto questo, io sto alla realtà, ai fatti E sono molto felice del fatto che la realtà e i fatti sono più forti di qualsiasi gossip Ultima domanda Roberto Calderoli, scherzando, ha detto che all'inferno ancora non hanno fatto il girone per tutti i peccati Come li ha fatti lei Quindi, diciamo, lei è un credente L'aspetta il paradiso o l'inferno? Mi piace questa storia che Roberto Calderoli sia diventato un teologo Detto questo, quello che è bellissimo nella Chiesa Cattolica è che c'è il perdono Auguro di trovarlo spesso a Roberto Calderoli Quindi per lei paradiso e inferno? Si ricorda che c'è anche il purgatorio Grazie